Buonasera, benvenuti a questa prima puntata della prova del candidato in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. È la prima di quattro puntate che Telereggio dedicherà alla conoscenza dei candidati, delle forze politiche in campo, delle loro idee, puntate che ci accompagneranno ogni lunedì sera su Telereggio alle 21, dalle 21 alle 22 e 15 in diretta, quattro puntate per capire meglio i temi al centro della campagna elettorale e le diverse proposte. Cominciamo questa sera, naturalmente poi ogni lunedì cambieranno i protagonisti e cambieranno le forze politiche. Vi presento i nostri ospiti di questa sera, cominciando da Graziano Del Rio, che è capolista per il Partito Democratico al Senato nel collegio plurinominale che comprende le province di Reggio, Parma, Piacenza e gran parte di quella di Modena. Poi è stato sindaco di Reggio, è stato ministro, è stato capogruppo del PD alla Camera e ho dimenticato sicuramente qualcosa. Al suo fianco Davide Zanichelli, anche lui parlamentare uscente, è capolista nel plurinominale per il Movimento 5 Stelle alla Camera nel collegio emiliano, quindi Reggio, Parma, Piacenza ed è candidato sempre alla Camera nel collegio uninominale 2 che grosso modo coincide con la provincia di Parma. Poi Gianluca Vinci, esponente invece di Fratelli d'Italia, numero 3 nella lista di Fratelli d'Italia per la Camera nei tre collegi plurinominali della nostra regione, quindi il collegio 1 che comprende Reggio, Parma e Piacenza, il 2 Modena, Bologna e la zona delle ceramiche e il collegio 3 che è quello della Romagna. Infine Maura Manghi, candidata di Azione e di Italia Viva per la Camera nel collegio uninominale 3 di Reggio e in lista al numero 4 nel collegio plurinominale. Mi date una risposta in 10 secondi, Vinci, favorevole al ritorno al nucleare? Beh, diciamo che ci si può iniziare a pensare e soprattutto però io penso la nostra provincia dove con la diga di vetto ci sarebbero 140 mila famiglie che potrebbero avere energia pulita. In Emilia Romagna sono previste 3 dighe e l'unica che viene osteggiata da Bonaccini è quella di Tiareggio perché quella nel Piacentino e quella nel Bolognese probabilmente si faranno anche velocemente. Cosa di un'ipotesi di ritorno al nucleare? No, io penso che dobbiamo accelerare sulle rinnovabili in maniera decisa. L'Emilia Romagna, come sapete, il Presidente Bonaccini vuole i regassificatori, vuole le dighe. Non so quale sia la notizia che sia contraria alla diga di vetto perché l'assessore regionale con me dice che è favorevole. Sì, piccola. Sono favorevoli diciamo un invaso molto piccolo. In realtà qua ci vuole un invaso grosso come quello di Lidracoli. Un invaso che verrà valutato per la sua valutazione di impatto ambientale. Una ricchezza anche del nostro territorio è il fatto di avere un ambiente che sia, come dire, armonico. Sì, sento di d'accordo. Quindi non si possono fare delle robe gigantesche. Ma che gigantesche? Ma abbiamo delle emergenze. Parliamo di due o tre anni e non parliamo di due anni. Abbiamo delle emergenze a qualche settimana, qualche mese. Lo stessa cosa anche per quanto riguarda la diga di vetto e gli allevatori. Gli allevatori hanno avuto problemi in questa stagione e avranno problemi la prossima. Anche se due o tre anni ce le avranno. Sulla diga di vetto possiamo fare tutti i ragionamenti del mondo. Ma per la prossima stragione se le autorità intermedie, se gli enti territoriali, gli enti locali non avranno risposte immediate, che possono essere date e possono andare avanti in parallelo. Ma se ci si rimane esclusivamente sulla diga di vetto, si rimane sulla distrazione dal problema vero che non è una diga di cemento, è l'acqua che manca agli agricoltori. Era una diga di terra, era una diga di terra, non di cemento. Se posso capitare solo per dire che noi siamo totalmente a favore dell'infrastruttura e necessario allo sviluppo del Paese. Qui ci fermiamo, la prova del candidato torna tra una settimana e lunedì sera alle 21. Grazie, buona serata. Grazie.